passiamo a una domanda gettonatissima sulla pesca al pesce serra il trancio deve fluttuare nell'acqua deve galleggiare quindi mi raccomando prima di lanciare il nostro boccone dobbiamo fare il test nel secchio l'innesco è pronto dentro c'è la parte che fa galleggiare il boccone il secchio e qui galleggia quindi si può lanciare no vabbè ragazzi mi ha piegato il minitrave piegato il minitrave qui ripulito io non riesco non riesco a capacitarmi del minitrave